Il tema dei risarcimenti era stato centrale anche nella visita della presidente Mattarella Civitella lo scorso 25 aprile ed adesso ad 80 anni di distanza arriva il primo ristoro per gli eredi delle vittime dell'eccidio. Si tratta della famiglia di Metello Ricciarini, uno dei 244 trucci dati in quel drammatico 29 giugno 1944 che si vedrà liquidare circa 900 mila euro dal fondo PNRR aperto presso il MEF come disposto dalla sentenza del 2008 di condanna all'ergassolo di Max Josef Milda, ritenuto unico colpevole dell'eccidio. Non è la questione economica che ci interessa in prima battuta, ma l'idea che dopo 20 anni praticamente da che abbiamo iniziato questa pratica finalmente siamo riusciti ad ottenere, seppur dall'Italia e non dalla Germania, un risarcimento che spero nel giro ora di un paio di mesi verrà erogato. Il nipote di Ricciarini, l'avvocato aretino Roberto Alboni, fu l'unico davanti al Tribunale Militare della Spezia nel 2018 a citare in giudizio la Germania come responsabile civile. Lo Stato tedesco fu guadagnato al risarcimento ma si è sempre rifiutato di pagare, un tira e molla andato avanti per anni sino all'istituzione di un fondo da parte dello Stato italiano, ma poi è intervenuta l'avvocatura di Stato che obietta la prescrizione civile. L'eccezione di prescrizione l'avevano formulata anche nel mio caso, però ho potuto dimostrare che la prescrizione era stata interrotta e l'avvocatura ne ha dovuto prendere atto e con il parere del 30 di aprile ha detto sì, qui non c'è la prescrizione e dobbiamo pagare. Dopo il primo sì potrebbero aprirsi nuovi scenari anche per gli eredi delle altre vittime, una battaglia contro la prescrizione che non può verificarsi, sottolinea illegale, nel caso di reati contro l'umanità. Secondo quello che scrivono i giudici e secondo quello che credo sia un criterio che risponde a esigenze di giustizia universali.